Piazza Pio XII Taranto adiacente alla cosiddetta chiesa Buchi Buchi, quello che dovrebbe essere e lo è un polmone di verde che però risente di una pessima manutenzione e vive purtroppo uno stato di profondo abbandono strutturale. Siamo con il collega e amico consigliere comunale Massimo Battista di Una città per cambiare Taranto. E allora Massimo cerchiamo di analizzare punto per punto le criticità di questa piazza a partire numero uno dalla questione della potatura degli alberi che non è avvenuta e prima di ottobre non potrà avvenire. Perché? Perché dalle piccole cose si fanno pure le grandi cose. Questo è uno dei polmoni verdi del quartiere Treccarare Battisti e ci sono tantissimi cittadini che usufruiscono di questa piazzetta. Purtroppo ancora una volta l'amministrazione Melucci ha fallito, qui bisognava fare la potatura degli alberi entro il 31 marzo così come è previsto dal regolamento del Verde Polo. Quindi ora dovremo aspettare il primo ottobre. Noi siamo a giugno e dalle immagini che stiamo documentando si vede che purtroppo gli alberi non sono stati potati e ancora una volta si dimostra l'inefficienza di un'amministrazione che tra l'altro ancora non ha una giunta. Voglio ricordare che 15 giorni fa c'è stato l'azzeramento da parte del sindaco Melucci e i cittadini purtroppo si lamentano delle condizioni pessime in cui vive questo. Perché immaginiamo cosa già sta succedendo e succederà ancora più con l'incedere del caldo torrido. Ma poi non è solo la questione degli alberi, abbiamo visto l'area per i giochi dei bambini assolutamente disastrata. Vediamo i gommati a terra per attutire le cadute, i colpi e anche lì disastrati. Immagina un po' cosa succede se un bambino sta scendendo da uno scivolo e anziché planare su una superficie morbida gommata va a sbattere sul selciato. E' pericolosissima Luigi, questo come dicevo prima ti fa capire di come il sindaco purtroppo non conosce le realtà cittadini. Questo abbiamo detto è un polmone verde, dovrebbe essere una piazzetta che dovrebbe essere una bomboniera. Ma oltre a ciò che stiamo documentando sulla questione del verde, dei giochi dei bambini, c'è l'area dello sgambettamento per i cani. Dei cani, con la porta completamente rotta, di velta. Abbiamo l'altra zona dello sgambettamento per i cani con taglia più piccola, taglia nana. Abbiamo visto che qualche cittadino si è avvicinato e ci ha detto che l'ha ripristinato da solo per non permettere... Fili elettrici pendenti qui e lì. Fili da fuori e poi c'è la questione, quella, la madre di tutte le battaglie, che qui c'è uno spazio che negli anni era aperto. Ogni volta si apre un bando per dare in concessione questo piccolo bar. Ricordo benissimo l'assessore Vigiano, invece, una conferenza stampa che aveva stato affidato questo bar. Però puntualmente si apre il bando, qualcuno vince e poi magicamente... Dopo un mese e due si chiude tutto. Non sappiamo cosa succede. Ma d'altronde l'amministrazione Melucci brilla per la politica degli annunci. L'importante è annunciare. Poi dopo un mese il pallone si sgonfia, la grande bolla si sgonfia e poi tanto la campagna elettorale è finita. L'uno degli ultimi problemi cittadini che ci hanno avvicinato. Sembrerebbe che qui la sera alle ore 22 il parco venga chiuso. Adesso c'è un'estate, il caldo è scoppiato. Voi immaginate un anziano che vorrebbe stare qui a rifocillarsi in questa piazzetta. La sera alle 10 questo parco magicamente viene chiuso. Quindi ci appelliamo al sindaco Vinaldo Menucci perché l'assessuto al momento non è stato nominato. Ci appelliamo che qua deve essere controllata e vigilata questa piazzetta e deve chiudere... A mezzanotte, diciamo, un orario... Come succede in tutte le altre città. Noi pensiamo alle immagini, l'immagine che ci fa anche tenerezza dell'anziano che sta seduto sul balcone e magari non può spendere per l'aria condizionata, per il climatizzatore e si soffia col ventaglio o col giornale. Beh, quale occasione migliore? Ma noi parliamo, Massimo, di cose che in altre città rappresentano l'assoluta ordinarietà. Qui vogliamo far passare, l'amministrazione comunale se mette un chiodo, se fa una pulizia, fa passare per straordinario quello che invece è il minimo. Ma quello è quello che diciamo noi quando facciamo le dirette con i cittadini, quelle che facciamo ogni lunedì. Il problema di fondo è che non può diventare il consigliere comunale il 118 di torno, dove viene chiamato puntualmente dai cittadini, che va bene anche. Però possiamo dire che questa è un'amministrazione che non tiene conto delle problematiche dei cittadini. Ma perché non le vive, il sindaco non gira la città. Il problema è che noi abbiamo persone che sono al comando, che amministrano questo territorio, che purtroppo non conoscono il territorio. Ne sono sempre più convinto di questo. Noi Massimo siamo consiglieri di strada, nel senso migliore del termine, più nobile del termine. Bisogna girare, ascoltare le lagnanze dei cittadini, le problematiche e girare, prendere atto. Non si può gestire una città a distanza, anche perché il sito sta molto poco a Tarno, tra incontri istituzionali e giri vari e a Roma e di qua e di là. Poi quando sta, sta rinchiuso a palazzo di città, non si presenta ai consigli comunali. I cittadini che ci hanno fermato, ci hanno chiesto di Rinaldo Melucci e Nulli, abbiamo detto che molto probabilmente lo vedono più loro in televisione che noi due. Perché purtroppo non è mai qui in città, è sempre fuori. Dice lui che va a portare la voce di Tarno nel mondo. Peccato che nessuno la sente questa voce. E proprio di fondo che voglio ricordare ai cittadini che sono sei anni che Melucci amministra questo territorio. Qualcuno parla di rinascita, io vedo la città nel degrado più assoluto. In ogni caso, forse sarà il caso di rivolgersi a infastidire un po' la redazione di chi l'ha visto, un sindaco Melucci politicamente fantasma.